Ogni tuo intervento è un boato, te ne sei accorto? Ma me ne sono accorto, lo sento. No, sono contento, perché insomma stiamo facendo bene. Io mi sento bene, mi sono integrato come già parlavamo l'altra volta, quindi insomma dai, sono contento. C'erano tanti dubbi che hanno accompagnato un po' il tuo arrivo, perché saprei benissimo insomma che soprattutto i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori, quando c'è un acquisto vanno a vedere il palmarès, quante partite ha giocato, come le ha giocate. Chiaramente c'erano un po' dei dubbi, visto che era un benevento che veniva tra l'altro da un periodo difficile in termini di difesa perché c'erano stati tanti infortuni. Tu hai convinto subito, ti sei preso il posto, hai dimostrato di essere già in condizione nonostante avessi nelle gambe poche partite giocate e alla fine insomma risposte positivissime per una difesa veramente ben messa in campo, quadrata. Vero, insomma parlavamo anche l'altra volta del mio momento difficile, purtroppo nel calcio contano i numeri, quindi insomma quando la gente va a vedere le poche partite che fai ovviamente i dubbi ci sono, come giusto che sia. Io sapevo e so delle mie qualità, quindi insomma appena il benevento mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco, infatti ho subito accettato l'offerta ed ero pronto, ero pronto sia mentalmente che fisicamente perché insomma aspettavo questo momento da più di un anno, dopo un anno difficile e insomma il grazie devo dirlo alla società, al presidente, ai compagni che mi hanno messo subito diciamo a mio agio. Una curiosità perché sono veramente due partite ravvicinate, magari qualcuno può dire questa pensa ancora al Foggia, però sono due partite ravvicinate, Foggia, Pescara, per due squadre che hanno classifiche diverse, lo scontro diretto era oggi. Quale vi ha messo più in difficoltà? Foggia o Pescara, anche per capire un po' com'è realmente questo campionato, l'andamento di questo campionato? Ma ogni partita in B è veramente una partita a sé, è sempre difficile, a Foggia sapevamo del derby, ambiente difficile ed è stata dura, poi dopo due giorni giocare con una squadra come il Pescara che comunque lotta per le prime posizioni è ancora più difficile. La cosa secondo me che ci ha dato qualcosa in più è il fatto di aver giocato in casa, insomma la spinta del pubblico si è sentita, magari anche oggi che secondo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, un po' di stanchezza che è subentrata, insomma avere questo appoggio del pubblico ci ha dato qualcosa in più secondo me. Ha fatto pochissimo il Pescara, però è riuscito comunque a segnare quell'1-1, cosa è accaduto in quell'occasione? Situazione un po' strana, diciamo che abbiamo concesso veramente poco tutta la partita e abbiamo fatto un po' un errore generale, insomma gli abbiamo regalato il gol, sono cose che non devono accadere perché insomma magari per queste i dettagli fanno la differenza, magari per queste piccolezze perdi partite, pareggi partite o magari perdi campionati, insomma bisogna stare più attenti. Trascinati per mano dal pubblico, mi è piaciuta questa tua considerazione Luca, è stato veramente così? il 2-1 l'hanno fatto i tifosi e non volta con la sua testa d'oro? Ma un po' tutti devo dire perché insomma al novantesimo non mi ricordo cosa ci facevo in alto là, sono andato a prestare e guadagnare l'angolo, insomma Max ha fatto gol, Nicola, il cross di Nicola, insomma c'era un po' quando abbiamo preso l'angolo c'è stato il boato che si è sentito, insomma ti dà quella carica in più, magari quella forza in più negli ultimi minuti che magari può cambiare le partite, vedi magari il Pescala si è deconcentrato un attimino e prendi gol, noi magari con un po' più di carica l'abbiamo fatto, insomma la storia che è il calcio Luca, quello che dà toglie è quello che toglie da, mi spiego, sabato scorso a Foggia, proprio nel finale c'è stata quella punizione bellissima ma anche beffa per voi perché eravate in totale controllo, stasera 1-1 che era pure beffardo, però ecco nel finale è arrivato questo gol di Massimo Volta che vi ha dato tre punti meritatissimi, faccio l'ultima domanda e poi così diamo spazio anche a quello che è l'eroe di stasera, praticamente una vittoria importante, un ciclo importante, da quando sei arrivato tu questa è la quarta partita, insomma il Benevento è sul pezzo, pensi che questa squadra possa effettivamente far sognare a questo punto? Io ne sono convintissimo perché vedo come giochiamo, vedo quello che diamo in campo e insomma io sono qua da quattro partite e insomma tra vittoria è un pareggio, stiamo facendo bene, bisogna continuare così, io credo che ci sono le qualità per puntare in alto. Ecco vedendo il tuo Benevento e il Pescara che stasera ci sopravvanzava addirittura di un punto, non pensi che la classifica era bugiata perché lui hai dato una chiara dimostrazione di superiorità rispetto agli abriuzzi? Sì, insomma come dicevi prima abbiamo meritato la vittoria tra il rigore sbagliato da Massimo, il palo, insomma un po' di azioni, vero che nel girone d'andata insomma si sono persi un po' dei punti per strada e insomma a questo punto potremmo avere magari qualche punto di più ma poco importa perché ormai la situazione non cambia, quindi insomma dobbiamo andare avanti così e lunedì c'è un'altra battaglia da fare così come sabato prossimo e così come ogni partita.